Alle venti di ieri a Delia i carabinieri effettuavano una perquisizione nell'abitazione di un pensionato, Pietro Ciranni, 74 anni, in un cassetto della camera da letto rinvenuta, avvolta in un panno, una pistola semi-automatica calibro 32 con serbatoio contenente 8 munizioni. L'arma, che sarebbe classificabile come clandestina, veniva immediatamente sequestrata. Contestualmente veniva fermato Ciranni e posto ai domiciliari in attesa della convalida.